Salve a tutti ragazzi bentornati sul canale di quel taleale eccoci qui di nuovo con Dying Light 2 Riprendiamo da dove ci siamo lasciati quindi eravamo rimasti sostanzialmente bloccati come dei pirloni qui Allora andiamo a vedere un pochino in queste casse cosa possiamo trovare Ci dobbiamo ricongiungere con Luan che è stata molto più sportiveggiante di noi nel passare la porta che si stava chiudendo Siamo nelle battute finali signori immagino che questo possa essere l'ultimo episodio vediamo un pochino insomma Voi mi raccomando come sempre lasciate like e condividete e continuate a rimanere sintonizzati perché insomma Una volta finito Dying Light comunque sappiate che ci sarà tanta tanta altra roba da vedere in questo febbraio Prossima no questa settimana quando uscirà questo video uscirà anche Horizon Per Horizon vedremo un pochino come organizzarci dipende quando mi arriva se mi arriva troppo in ritardo Magari facciamo delle live odds quindi insomma voi seguitemi come se non ci fossero domani Poi ci sarà il Daring, Grid Legends, Marta is dead, uh a voglia Ma tutti i momi li devi fa scassinare scusa eh Capisco la voglia di farci gigioneggiare qui ma Allora stiamo prendendo tra l'altro parecchia attrezzatura Quindi facciamo una cosa siccome ci siamo abbiamo trovato una giacchetta prepotente anche se questa che abbiamo Allora questa qui resistenza ai danni in generale sia umani che infetti Esperienza di combattimento il vigore armi una mano Meno 9,5 l'utilizzo Danni, esperienza di combattimento, costo vigore armi da mischia Rigenerazione vigore è meglio e ci dà più armatura Eeeh bah tutto sommato ci potrebbe anche stare perché facciamo un bel po' di danni in più Danni armi una mano più 7,1, più un 16 Guarda facciamo che usiamo questa Ci sta come cosa poi abbiamo preso Eeeh questi ce l'avevamo Noi al momento stiamo utilizzando questa qua Esperienza di combattimento, costo vigore Efficienza curativa Portata a spirito, durata a spirito, resistenza ai danni di notte Danni, attacchi parkour, va bene quella che abbiamo adesso Il pantalone Eeeh io ho miscelato un pochino perché insomma anche un po' di danni in più con gli attacchi parkour Ci stanno pure comunque perché noi andiamo a miscelare un pochino il combattimento a badilate Eeeh tanto degli attacchi parkour se vogliamo dirla tutta perché insomma la scivolata E' il nostro, è il nostro punto forte signori Ah interessante Allora aspetta un attimo perché a sto punto Precce esplosive le abbiamo finite Ah peccato Vabbè possiamo andare pure di badilate a class Ho sbagliato tasto Boom Allora noi qua vestiamo un po' tutti in realtà Per quanto Questi dovrebbero essere in linea teorica Beh quelli di Di waltz che ce l'ha E levati dai coglioni Ce l'aveva detto che insomma Ah ancora vivo se Eeeh Attenzione Ecco quelli non comuni ci servono Quindi va bene come cosa Ha perso un po' la testa Eeeh vabbè intanto prendiamo tutto Che comunque tutto fa brodo Eeeh Prendi anche quella Ok Altra arma Ci sta riempiendo di roba Va bene sempre E comunque tanto Usiamo un po' Un po' tutto Allora Eeeh Mi vado anche a dare una curatina Perché effettivamente qualche badilata sui denti L'abbiamo anche presa Qua dietro c'è qualcosa Apparentemente no C'è della roba dall'altro lato Che però possiamo raggiungere forse Andando avanti Da qui comunque Penso eh Oddio non lo so Però dall'altro lato Mi sa che non ci potevamo andare Qua è chiuso quindi Ah non è vero Tutto a posto? Eh non credo che sta benissimo eh Ehm Ha detto male per Luan Oh my god Eh what is this? Eh vabbè se non la conosci Ma questa la conoscono tutti Olé Comunque so che siamo arrivati ormai Alla fine della serie E quant'altro però Ehm Ho notato sì che effettivamente In un Ogni tanto in qualche episodio Si desincronizzava la camera Ma in realtà Si desincronizzava Sempre Sono io che dovevo ogni volta Rifarla Durante tutti gli episodi No Ma perché questa cosa? Eh perché purtroppo Il Cosa di registrazione Me la Me la sputtana Più del Dovuto Quindi Vorrei togliere prima quelli Ma a sto punto Ui Scusa Aspetta un attimo Si usiamo prima E levatevi dal Cazzo Un attimo Eh le parate qua Proprio sconosciute Ma che cazzo No si è impallato Completamente Ma che cazzo Sta succedendo Non so se avete notato Ma Si muoveva a scatti Paurosamente Aspettate perché Mi si sta Impastando Tutto Non so per quale Ignobile motivo Ok Eh Boh Scusa Non credo che sia Perché Insomma ne abbiamo Compattuti Anche di più Forse in questa zona È un po' più Pesante il tutto Ma non credo Ma si sta Impastando E andando In modo Che poi non è che È scattoso il gioco È proprio che Guardi dal cazzo Aspetta che non vedo Niente Scusa A mangiare fuoco Ecco qua C'è un po' Niente Pure così Vedi Se non si è impastato Non lo so Non La sensazione Che ci sia Qualche problema Non so Perché no Ah ci stanno pure Questi Quindi figurati Se sale Magari Eh anche Perché i cacciatori Questi mi rompono Nel culo Ok Ok Vabbè Vediamo un attimo Certo Loanne Che si è buttata Proprio Pagliuca Style Un po' Ricacciato Tra l'altro In realtà L'abbiamo promesso Anche a Franco Oltre al fatto Che io lo dobbiamo Insomma Vabbè C'abbiamo un milione Di medikit Qualcosa Che lo possiamo pure dare Eventualmente Nel senso Non è che Ecco Quanti Aia Ci trasformiamo O O facciamo finta Di niente Perché sono tutti I cacciatori Quindi questi Ci fanno malissimo Penso che dobbiamo Farla in stealth Perché questi Ci aprono Veramente Il culo Questi ci fanno Veramente Il culo A strisce Vediamo Vediamo Un attimo Cosa Riusciamo A combinare Questo Dobbiamo Noi in realtà Dobbiamo andare Lì Però Se facciamo Un attimo Di stradina Qui nel Pertugio A parte Che questi Ci hanno lasciato Un po' Di roba Che Va sempre Comodo Aia Aspetta Allora Passo Ci vede Facciamo Veloce Magari No Dai ma Come faccio Ad arrivare Là Che stanno Da tutte Le parti Facciamo Il giro Di qua Proviamo Non credo In realtà Allora Nel dubbio Facciamo Anche Una cosa Sa Com'è Tardie Impatto Ok Totalmente Eh perché Va bene Cercare Di evitarli Ma come Cazzo Fai Evitarli Se devo Andare Allora Non c'ho Finta Di niente Occhio Eh lo so Che qualcuno Ce l'ha Mezzo Visto Ma Ok Noi ce l'ha Visto Definitivamente Però è fattibile È fattibile Occhio che corrono Occhio che corrono Ole A posto In linea teorica Non dovrebbero passare Qua Certo Qualora Riusci Arca Troia Che fa Sputano Stifi Della Mignotta Aspetta Un attimo Qualche Freccia Esplosiva Una decina Anche se Dubito Che gli Possiamo fare Granché male Però Oh So comunque No No Non così Ma che stai fuori Però devo pure capire Se c'è Vamo Eh vedi Non fai un cazzo No vabbè Falli fare Falli fare Va bene così Senza che Ci preoccupiamo Troppo Ce la siamo Svangata Rimaniamo Nella nostra Zona di Salvezza Che è meglio Recuperiamo Quel che possiamo Recuperare Come sempre Anche perché poi Eventualmente Non so se Come funziona Se prosegue Dopo l'endgame Immagino di sì Per farti Varie cose Eventuali O se Puoi ricarica Prima della fine Non lo so Ci guarderemo Ci guarderemo Aden Are we running away Or what What Like now No When we're old Now Aden We need supplies Everything's ready These are beds Why can't I remember Ok Foto del compleanno Di Mia Ok Quindi Mia Esiste No perché A un certo punto Mi era venuto Pure il dubbio Che qua Mia Nessuno conosce Nessuno ha mai sentito Nessuno niente Cazzo Non sono 13 Gabriel Wayne Trina del bambino Eh adesso Onestamente Qualcosina Andrei a vedere Cartella clinica Ok Nome assegnato Gabriel Abbiate Supervenza La seconda dose 55 Indicazione Ok Poi abbiamo Wayne E la letterina Per la mamma Soltanto per la mamma Ciao mamma Il cibo è buono Però a casa è più buono Qui ho un sacco di amici Tutti gli altri Bambini piangono Quando devono fare la puntura Io non piango mai Mi manchi Il dottore dice che Vuole che vieni Qui per stare con me Lo voglio tanto Che tu vieni Qui con me Io voglio tanto Franco Così Eeeh Eeeh Ci sta Franco Franco Aspetta che pure qua Posso Eh curiosiamo un pochino Perché insomma Ci sta anche Vedere se troviamo Qualche informazione Sull'esperimento Eeeh Di questi C'erano una marea Di kit di pronto soccorso Però usiamo sempre Quell'altro Per carità Va bene Ah eh Io non vorrei andare subito Per dove dobbiamo andare In realtà Per cui Non vorrei Non vorrei Non vorrei Non vorrei Non vorrei Non vorrei Nogetro Aiden Aiden Come on It's time Non vorrei E' qua tutto l'uono Oww, oww It's ok, it'll pass It hurts I know, I know boy I'm right here with you Shhh Vida, shhh Shhh Fire, fire in the lab Hurry, Aiden, you have to run Where's Mia? I'll find her, I promise Run! No, però, ok, sì, c'era Mia E questo è quanto Eh, sopraffatti dai ricordi, diciamo Vabbè, poteva anche evitare Di dire la cosa delle bende Cioè, lo dici Quando sarà Sappiamo che siamo In un gioco dove noi abbiamo La possibilità di craftare Tutto Prese bende Petra E Dottor Wolves Allora, vediamo Petra Petra, nessuna malattia Nota, c'è stata insieme alla sorella Wendy Nota per l'analisi comparativa Aspetta, gli altri ci stavano Wayne Sera c'è stato insieme alla Ok Filastrocca del bambino In X13 Dottor Wolves Lei mi ricorda un vigile urbano Di qua, di là Alza la mano Abbassa la mano Corre su e giù Non va mai piano Pur di trovare un antidoto Per tirarci fuori da questo pantano Trova anche il tempo di fare una battuta O raccontare una barzelletta Che per distrarci dalle cose brutte Sono la miglior ricetta Lei permette a Petra Oscar Wendy E me Di farci una risata Caro dottore Noi la adoriamo E la fine della filastrocca È arrivata Charles Allora un attimo vorrei vedere se riesco a tornare indietro Dove siamo venuti Perché comunque c'erano delle cose da raccattare Che non abbiamo raccattato E in realtà anche dall'altro lato Non so quale sia la strada principale E quale la secondaria Ma Siccome ci sono altri documenti Wendy Charles E Oscar Allora Oscar Anemia Asma Debolezza muscolare Non meglio identificate Non le dosi ricevute Zero Indicazione quadro clinico Deve migliorare Prima di somministrare La prima dose Età 6 Quindi Comunque Non avevano fatto ancora niente Su Oscar E non stava bene Diciamo così Quindi magari può pure essere Stava Stava L'accettazione Il paziente Si è da poco rimesso Da un raffreddore Il numero di dosi ricevute 5 La forza fisica In seguito alla quinta La temperatura è salita A 41 Per una settimana Gocce somministrate Parametri vitali Peggioramenti Indicazione Proniosis sfavorevole Quinta dose somministrata Dopo un intervallo Troppo breve Charles Quindi Petra Ok Ok E Quelle sono le porte Quindi immagino Dove ripassare Aspetta che qua Abbiamo lasciato Questo che non possiamo Prendere No vabbè Ho preso Tutto Tra virgolette Non si passa Allora si Dobbiamo ripassare Vediamo un po' Signori Sono Estremamente Curioso Estremamente Curioso Di capire Di capire Effettivamente Dobbiamo capire Signori Ci stiamo Se c'è questo Da scassinare Lo scassiniamo Seguiamo Seguiamo le tracce C'è questo E schiva Coglionazzo di merda Ma che è diventato più rincoglionito Alla fine L'abbiamo congelato però L'ho fatto il cubetto De ghiaccio Eh nel finale Sembra tutto impallato Proprio Aiden Dico eh Proprio come personaggio Sembra Veramente in difficoltà Mi sta dando una marea di medikit Non è vero Però ho detto ok Arrivederci Non ce l'hai più medikit È stata Pym Seguiamo le piedate Niente Ok Sono finiti i medikit Signora Finita la vera Eh Mia Ma sembrava Comunque non Non un adulto Sbaglio Ora viva Che cazzo è Mentre Io comunque Tutto qua Insomma Ottimo Quando parte il congelamento È una cosa buona e giusta È chiuso Guarda qua O sbaglio Non c'era nessuno Non c'era nessuno Non c'era una parte Mamola Sbloccato E allora Qua stiamo iniziando A avere un po' più di difficoltà Questa 117 di danni Questa 126 Quindi iniziamo ad utilizzare Questa qui E al posto di questa Da 117 Beh 153 Potrebbe andar bene Sì Credi sì Tanto comunque Una mano E qualcosa Possiamo Mettercela Andiamo con il fuoco E il fuoco Che dà soddisfazione Non possiamo mettere L'ornamento Visto che mi avete detto Che c'era un'altra cosa Dove abbiamo preso Quell'altro baracchino Pazienza Che duro Metti questa Abbiamo preso La cosa degli sviluppatori Da sederci Quella Però non Effettivamente Per prendere l'altra cosa Si doveva fare Un qualcosa Che è Se sai la soluzione Lo fai Se no Non lo sai E allora Spiegaci Non lo sai Non lo sai Non lo sai Non lo sai Chi è Mia Tu l'ai brought Non lo sai Quando tu ancora Puoi E' E' E poi che si ne viene un certo Eh no Eh ci deve stare per forza qualcosa Non è vero non è vero che la città il virus ma tu puoi salvare Aiden se... sai... la gente chiede la mia ricerca non puoi vedere quanto stiamo a trovare una cura cosa che succeda dobbiamo cosa che succeda dobbiamo non 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 tu mi torturati tu mi scocci e mia non non Aiden non 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 mi scocci mia è mia mia è mia e tu lo sai ho capito ho capito non 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 quindi non è nostra sorella era una cara amica diciamo che noi non siamo nooo bigliori waltz oh salve eh uccidi waltz ma dobbiamo capire qua che cazzo uccidi waltz scusa lo rintrono così che comunque ha più effetto questo ci rompe il culo mi posso curare o mi deve rompere il culo? credo la seconda tu sei solo umano dopo tutto Aiden porca troia aspetta ma aspetta waltz un attimo arrivo eh ma non credo che possiamo eliminarlo troppo easy cioè troppo easy però almeno vorrei arrivare ad un punto dove abbiamo una minima possibilità no? anche se forse ci deve proprio rompere il culo si vabbè ho capito eh no non possiamo neanche schivare non c'è modo vabbè dai facciamoci ammazzà tanto questa eh almeno penso eh no? ci dobbiamo riuscire? cioè ci dobbiamo riuscire dobbiamo arrivare ad un punto su porco due però che cazzo di casino eh ma perché appena ti avvicini ti risbalza lontano arco e freccia non vi preoccupate le le evita ci ho provato schiva matrix style però scusa io mo so comunque curioso di sapere cose in più eeeh vabbè giomare va dove va dove va si è dato? vado rincorre come funziona? eeeh 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 poca puttana di me si vabbè questo già mi rompeva il culo normalmente eeeh oh cristo santissimo ah qua è proprio all'istante va bene basta saperlo vabbè lo aspetto eh vabbè sostanze chimiche ne avevamo viste ma anche meno no qua non ci vengono sto vuol si vabbè un'ora un'ora e mezza ci vuole qua vabbè ci vediamo tra tra domani e dopo domani credo porca troia questo mi ribatta a faccia levate levate vai usiamo i medikit che ma ci possiamo trasformare pure noi l'anima degli mortacci tua e di chi non te lo dice giovanotto questo santissimo merda guarda com'è sportiveggiante facciamo così va ce ne abbiamo 70 di sti cosi che non li ho mai usati ok lo schiaffo in volo eh no prima ti dovevi trasformare brutto stronzo no adesso ah no questo è solo il classico calo di zuccheri ok va bene ok 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 Ma poi è vero che ci ha torturato da bambini Perché, scusa, questo vorrei capire Non voglio questo E' per questo che non potrà capire Ever Che cazzate Allora quasi come ci ha messo Queste cose secondo me ci dobbiamo Proprio dalla macchia No Penso eh Non ne sono sicuro ma magari dobbiamo Sennò che cazzo facciamo Scusa quello si è trasformato Noi ci abbiamo Però dobbiamo comunque Attaccarlo sennò che cazzo facciamo Però perché ci stanno tutte ste cose per Arrambicarsi e scappare Forse non lo so eh Se scappare o meno Vorrei capire Se magari c'è qualcosa da sbloccare O semplicemente per rifiatare un pochino Via via Vabbè Nel mentre Abbiamo avviato Pare di sì però Eh magari quando fa così Non lo dobbiamo far cazzare troppo Non vedo niente Io vado di fino eh Che sta Mazzetta Vabbè Allora qua Dobbiamo capire se è più forte la sua Spadilata a terra O il nostro garcio Allora occhio Noi siamo curati Ok Allora aspetta Vuoi dare via Dare via forse Guarda 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 È una mignotta Eh comunque La pedata Ha il suo perché eh Vai che schiviamo anche di lato No Cristo Santissimo Uh Ci siamo incazzati pure noi Ah Mosi Nel propone finale eh Ci eravamo quasi arrivati anche prima Che ci lanciassero Che cadessimo Certo il fatto che lui comunque stia cercando una cura Mmm 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 Non lo so Eh Eeeh 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 Eh mo ripartiamo da capo Dai Ciorca la troia Cioè se lui sta cercando la cura Perché Indipendentemente dal fatto che noi Vabbè siamo un po' incazzati per il fatto che stia facendo Esplodere tutta la città ma Però pure noi siamo incazzati no Apparentemente si quindi Una lotta tra Tra bestie a sto punto Oh madonna come saltiamo bravi tutti E allora ce la faccio ad arrivare la? Si Figurati se faccio pure la Ah no Preva troppo E vabbè rotti i coglioni Si però eh Aia Vabbè Dannato Uff Non riesco a Ma che te vuoi uccidere qua? Scusa eh ma il caccio volante è sempre Eh vieni qua che o mi sa che Ah no ci possiamo arrivare qua Para para Do sta? Oh giorno Hai capito che Siamo incazzosi pure noi Anche se Sempre uccidi Walsh eh Non è che Però come detto Devo C'è qualcosa che Non è che Go back, now! Mia, is that you? Aiden, what happened to you? Mia, the key. Without it, the city will be destroyed. Mia, you need your ventilator. I beg you. It's gone too far. Mia, hurry. You need oxygen now, understand? Without it, I can't cure you. You've been trying to cure me for years. I don't want it anymore. Sì, probabilmente vuole far saltare tutta la città per... Aia. Per evitare che lo fermino di nuovo per quanto riguarda la ricerca. Però... Oh my God! No! Mia, please. Breathe. Honey, please, breathe. Help me! Abbiamo tutto sto cazzo di casino. La chiave non ce l'ha né lei né noi. Facciamo sto paio di palle. Hurry, the generator! The generator! I beg you Mia Don't leave me please Is she Is she gone Mia Fight There you go Fight on me Aiden The missiles are launching soon You were supposed to clear out of here Luan Oh bad time for your mother head Bullshit Aiden Did you get Walsh? Yes Luan I found Mia And the key? Let's go What? The key has been destroyed Luan It's been destroyed Aiden God damn it Those missiles will obliterate the city I'm in the control room I'll try to shut down the launch procedure Do it fast It's our last hope Ehi Mono Mi di che ci fa sceglia tra i missili Yeah Mi a ee Aiden Aiden don't do that I can't stop it Luan And the power What if we kill the power in the city again? We have to get to the solar power plant It's too far Aiden no Oh no 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 There's gotta be something we can do She can't do the procedure It's weird We're the missiles We can detonate them before they launch With the explosives that we found in that warehouse Okay Okay That 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 just might work I'll go after them Wait Luan Let me Stop her Aiden She will destroy everything Launch countdown procedure Sì ma Agura Hai trovato o no? Tra l'altro Salva Luan Permette a Luan di far detonare le bombe Eh però c'è tanta gente Per carità Tanti Hanno dato la vita Per la città Quel poco che ne è rimasto Luan You're the strongest person I've ever known I know I know Just take me out and leave You'll save her Aiden You'll find a way I know you will I'm sorry I failed you I'm sorry I'm so Sorry Radera è al suolo tutta la città Che è l'ultima rimasta Insomma Mi pare pure eccessivo Però mia la Eh alla fine sì In un modo o nell'altro Ci ha fatto scegliere Tra Luan e mia Però In questo caso Il sacrificio di Luan Salva Tutti Gli altri Che poi per carità Ci stanno un sacco di stronzi A destra e a sinistra Però Pure tante persone Che cercano di Sopravvivere Anche perché Anche perché Questa Agura Ne la trovate Eh Peccato per Luan Perché Peccato eh No Luan no Hold on tight Grazie a tutti 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 ce l'ha fatta, non abbiamo visto i missili di partire ok flash che ci siamo ritrovati al bar, tipo eh signori le scelte sono sempre difficili sono sempre difficili perché vorresti scelere tutte e due per vedere come va insomma cosa succede, informazioni in più per quanto riguarda gli esperimenti effettivamente non è che si sia poi capito a che punto voleva arrivare Waltz perché si stava continuando a curare la figlia ma cioè dove era arrivato pure la figlia ha detto basta quindi onestamente non ho comunque ben capito se poi sarebbe stato solo un tentare di tenerla in vita ancora un po' e nel mentre stoppare la città che rompeva i coglioni e allo stesso tempo vorrei capire però se è crashato il gioco Take heed e bear witness for this is the news of the last city standing a soup kitchen for the forest citizens has been established in the city center farmers are asked to donate any unsoul produce we have survived another night but many of our loved ones weren't so lucky be mindful and help those in need we are one community ok se è un attimo ripiato i missili hanno distrutto le ok le allerte radio hanno permesso di contenere le perdite in termini di vite umane la gente libera guidata dai nottambuli governa la città il bazar prospera grazie alla leadership di Sofi Luan non è riuscita a fuggire dal laboratorio X13 sacrificandosi per la città zitti zitti sei arrepiato un attimo ci ha messo tipo un quarto d'ora che sta così Sì. Eh Frank non gli aveva detto niente Quindi giustamente aveva detto Se riusciamo a risolvere non c'è bisogno Che sappiano di quello che è successo Quindi insomma In pochi sappiamo quello che è accaduto Non c'è bisogno Non pensavo che eravamo noi prima di sì Vi ricordate questo era Quello che all'inizio è Qu'è? Spike era il tipo all'inizio per ricordare del tutorial se non ricordo male e beh signori il nostro pellegrino comunque continua a pellegrinare con le sue scorribande, non sta benissimo l'ha detto un farmaco che però grazie anche a quelli che erano esperimenti appunto fatti su di noi da ragazzini siamo comunque usciti belli forti, resistenti, tanto da durare anche come pellegrini in questa avventura e sì alla fine ne è andata benissimo ma inteso come generale qualunque cosa si potesse optare alla fine la storia di base questa qui indipendentemente dalle scelte durante la storia finali eccetera l'altra opzione forse probabilmente era quella di far esplodere tutta la città insomma comunque non è che sarebbe andata benissimo c'è da dire anche appunto il fatto che la nostra ricerca il nostro tentativo di andare a recuperare un pochino waltz per eliminarlo forse appunto per il fatto dei ricordi a bambino che pensavamo ci perché in fondo lui non è che ci torturava vedevamo pure che giocavamo con la figlia scherzavamo eravamo migliori amici della figlia quindi sostanzialmente immagino che cercava semplicemente di fare esperimenti di utilizzare alcuni bambini noi in particolare perché forse eravamo i più forti i più resistenti per trovare una cura in generale ma soprattutto perché la figlia era ammalata intanto continuo la partita per vedere da dove riparte per sapere se riparte prima del finale o dopo ma immagino prima che si inizi la parte finale perché noi poi ce ne siamo andati quindi poi se uno sceglie di distruggere la città che fa riparti dopo il finale che non c'è sta niente immagino immagino non perché voglia spippolare altri finali perché sennò ci dovremmo rifare tutta questo filone finale che comunque sono altre due ore quindi non credo a meno che non spippoliamo qualcosa in live congratulazioni completate il gioco e la storia principale di Dying Light 2 ora puoi tornare a Villador per completare le missioni e le attività open world in sospeso affinché ciò sia possibile alcune delle tue scelte verranno annullate ah quindi quello se magari facevi esplodere tutto a partire da ora il gioco si adatterà ai tuoi progressi per proporti una sfida adeguata e consentirti di ottenere armi che vuoi avantiamento in grado di grado superiore e altro ancora insomma sì per livellare in generale ok ok va bene quindi vabbè si torna qua per poter fare delle eventuali missioni secondarie non so onestamente quali siano state le nostre scelte annullate tra virgolette immagino però che era riferito a che ne so eventualmente se uno sceglieva di far esplodere la città Frank qua non c'è sta ma quello era già prima del finale quindi per Frank che è andata così ma non credo che si potesse comunque salvare perché alla fine o rimanevamo là o ce ne andavamo a rincorrere walls comunque la situazione penso che era sarebbe rimasta la stessa sta di fatto che appunto si riparte dopo il finale quindi in realtà non è possibile andare a x13 impresa principale non credo si possa fare obiettivi salva ok questi erano quelli che abbiamo fatto noi no quindi non è possibile eventualmente fare altri finali se non magari salvando prima non che li avessi voluti fare perché ci sta anche il fatto di un po' di curiosità c'è però come vi dicevo secondo me sarebbe cambiato veramente molto poco per quanto riguarda il la situazione finale però ragazzi arrivati a questo punto io spero che questa serie vi sia garbata mi raccomando restate sintonizzati perché può essere che ci starà qualche live extra come può essere no però nel senso muo vediamo un attimino perché comunque in settimana uscirà anche Horizon quindi insomma restatevi attaccati sia qui che sull'altro sito perché in realtà devo vedere per Horizon se lo faremo in live o qui dipenderà se mi arriva un po' in ritardo probabilmente ce lo facciamo in live quindi seguitemi anche di là poi magari vi riporto qualcosina qui sul canale sul secondo poi vediamo poi ci sarà il Dead Ring Marte is Dead Grid Legends poi Gran Turismo insomma c'è una marea di roba nelle prossime settimane quindi rimanete incollati ma soprattutto grazie a tutti quelli che hanno seguito la serie mi raccomando lasciate like e condividete come sempre per supportare un pochino tutto quello che faccio e se mi seguite sull'altro sito per le live ricordate che se avete Amazon Prime potete collegare l'account per abbonarvi in modo totalmente gratuito e detto questo il gioco ragazzi allora venendo proprio ve l'ho già detto anche in live però lo dico anche qui nell'episodio finale il titolo una cosa che vi consiglio se lo volete giocare è quella di iniziare e seguire maggiormente la storia principale arrivati fino a un certo punto perché se andate subito in giro a cazzeggiare tra virgolette il gioco vi risulterà piuttosto frustrante a me all'inizio ha fatto quell'effetto perché ho detto ho iniziato a registrare magari i primi episodi insomma le prime missioncine le prime due ore poi ho detto vabbè per proseguire magari intanto mi faccio un po' di secondaria visto che vi volevo portare solo le principali qui sul canale e poi proseguo con la storia ma ho trovato veramente difficoltà in quelle ore infatti mi stava quasi infastidendo stavo dicendo oddio però non è che mi garba più di tanto mi risulta molto frustrante anche forse per la difficoltà inizialmente che parti giustamente da barbone quindi la storia principale un pochino ti indirizza e ti aiuta mentre più andavo avanti più macinavo con la storia principale e poi anche andando a fare le secondarie o comunque il cazzeggio che abbiamo fatto in live mi è piaciuto sempre sempre di più ci sono tantissime abilità noi ne abbiamo usate una minima parte ma preferisco giocarlo concentrandomi su alcune abilità scivolata classica come se non ci fossero domani anche per una questione di 18.000 tassi che non mi ricorderò mai tecnicamente mi è sembrato buono c'è sempre il fatto che ogni tanto per quanto riguarda il parkour si va ad impastare ad impallare ci bestemmio naturalmente come se non ci fosse un domani perché ci sta che ci bestemmi come se non ci fosse un domani quando se ne casca come una peracotta però allo stesso tempo è comprensibile che in un gioco di parkour dove devi fare tutti questi giri tutte queste dribblage eccetera eccetera ogni tanto può capitare che il personaggio si bug si blocchi da qualche parte non riesca a prendere bene il l'appiglio diciamo che ci sia qualche problema sotto questo aspetto è dato anche dal fatto probabilmente che essendo in prima persona comunque è difficile anche magari giocandolo riuscire a vedere subito l'appiglio non è che sta in terza persona quindi magari mentre salta tu con lo sguardo guardi là se guardi là il personaggio va là quindi già se impasta un po' tutto di suo però comunque in ogni caso è comprensibile per un titolo di questa tipologia che ci possano essere magari qualche un po' di problemi lato meccaniche in alcune situazioni diciamo così diciamo così però per il resto ragazzuoli onestamente mi è piaciuto veramente tanto e spero che sia piaciuto appunto anche a voi per quanto riguarda la nostra avventura e noi come detto ci vediamo con le prossime serie con i prossimi giochi ragazzuoli grazie mille a tutti per aver seguito questa seriozza ci vediamo alla prossima un saluto a tutti da Queltaleale Grazie mille a tutti